E' stata l'argomentazione che ha suscitato maggior interesse anche nella recente prova d'esame di maturità da parte dei nostri ragazzi ma il tema della solitudine da sempre viene abbinato alle fasce più anziane della nostra società la cui longevità si va spostando sempre più in là ma con essa subentrano anche problematiche relative alla vita quotidiana di questi ultra 65 anni ma è l'estate il periodo peggiore per i nostri nonni dove il caldo e lo svuotamento delle città contribuiscono ad accentuare il problema e fanno non è da meno nella città della fortuna il 24% della popolazione pari a 15.000 persone hanno più di 65 anni e di queste un terzo e ultraottantenne solitudine, povertà, salute e necessità quotidiana sono i mali di questa parte della nostra società così anche quest'anno, come avviene ormai da un decennio, i servizi sociali di Fano hanno organizzato per i mesi estivi l'operazione Estate Sicuri, un'operazione dall'alto significato socio-culturale Ma è un valore importantissimo e anche molto concreto perché oggi in questa fase storica più che mai c'è un tema che è quello della solitudine che è molto forte non solo negli anziani anche in persone più giovani per tante ragioni e quindi diciamo è un aiuto sostanziale perché si tratta di trasporti, si tratta di contatti umani telefonici ma anche personali, di accompagnamenti per cose ordinarie ma a volte anche straordinarie e quindi diciamo è concreto ma ha anche una grande valenza psicologica e restituisce un profondo senso di benessere a chi non si sente solo in una comunità dove in realtà molti stanno pensando a lui o a lei Le due organizzazioni che assieme ai servizi sociali del comune portano il peso di questa operazione sono il CB Club Mattei e l'Auser che con i suoi volontari raggiunge telefonicamente ogni giorno decine e decine di anziani soli per telefonate di supporto oltre che assicurare un pasto caldo 365 giorni all'anno a chi ormai non è più in grado di poterselo procurare Sì, anche quest'anno oltre ai servizi che si danno tutto l'anno l'amministrazione comunale ha voluto ampliare col progetto Elios in pratica è presente sul territorio in aiuto alle persone più anziane Il nostro servizio è di accompagno di tutte quelle cose che gli anziani hanno la necessità senza uscire di casa e quindi è un supporto durante l'estate che facciamo molto volentieri fra l'altro è un piacere fare quattro chiacchiere con l'anziano che ha da raccontarti qualche cosa e quindi diciamo che è un servizio molto apprezzato negli anni e lo facciamo con piacere Noi siamo impegnati a lavorare con l'amministrazione comunale, con le assistenti sociali per recepire l'anziano in grande difficoltà e noi rispondiamo in queste tre macro aree, solitudine, povertà e salute E state sicure anziani a un numero di telefono di riferimento tutti i giorni dal 25 giugno al 31 agosto 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30 si può chiamare il 340-1409-822 Grazie